Il caso del Parkin Serial Sono Sergio, il Varano, un investigatore privato. Ho risolto molti casi, stavolta però si tratta di un'indagine davvero difficile dove conosciamo il colpevole, il Parkinson, che colpisce milioni di persone nel mondo. Il Parkin Serial si muove invisibile, nell'ombra si parlisce del corpo. Ti piacca, ti scuote, ti blocca. Dobbiamo fermarlo. La ricerca continua e la Fondazione Limpe chiede il vostro sostegno. Aiutatela. Grazie a tutti.